Bella raga Tutte le volte che devo fare seconda, terza Non mi entra la marcia Tu ti fermi tanto in centro curva Secondo me la devi lasciare scorrere un po' di più Eh, è lungo, non riesco a starti dietro Sarebbe un problema se riuscissi Non sarebbe un problema, sarebbe Un 125 bombardato a bello Hai chiuso le gomme? Mincia, bravo! Continua Edu Ma come cazzo fa? Hai un po' di gas qua Un po' di gas È una Ferrari a gas Non è lui? Ma io mi sono incarrellato con il suo bago Eh, mi sa che deve cambiargli un po' i freni Ah, ma volevo Ma non c'era un rumore strano Non era tipo qualcuno che aveva volato giù Ma piove! Siamo un po' in ritardo? Ah, bravo! Porco di... Ma paura da dirvi qua Tutta dritta tanto, no? Sì, c'è Oh, c'ho le curve Ci sono le curve Oh, porco di... With me seconda Sì, c'è Aw, c'è Laolia Oh, c'è La mia Sì, c'è Oh, che la mia minchia ci abbiamo andato di cassa Dove vado ma non impendo qua in mezzo e c'è il camion è carina figa ma è un botto strana è il gas straduro no 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 squarna non lo guido ragazzo volete oggi se tutto va bene speriamo per il tempo vado a beccare Martina anche lei il 4 e mezzo squarna enduro che dopo lo vediamo voglio farle provare smr così vediamo quali sono le sensazioni di una ragazza che comunque sta andare in moto su questa moto quindi nulla ci becchiamo direttamente con lei appena la raggiungiamo ci vediamo dopo bella raga ciao Marti ciao Leo pronta? non voglio darti la mano ma tanto andiamo sotto la polizia e vabbè dicerei che stai impenando da tutto il tempo metti giù la moto tre secondi dopo vedi giù che arrivo da stradare siamo al montarone abbiamo la Marti e la mia moto adesso stavo provando a salire e a vedere com'è e diamo il casco e vediamo come se la cava poi vediamo dopo cosa dice ma non posso mettere la mascherina? vai vai mettila la chi? frizione ok è un po' dura mi chiami i guantini tattici ti piacciono? no però puoi non usarla perché c'è il cambio elettronico il cambio elettronico non devo mollare il gas ma perché me la devi mandare in palla zio? io non l'ho mai usato il cambio elettronico cambia normale sti cazzi anche perché è duro come il cemento vai riesci a non capire? mi fido vedremo provo a salire intanto senza accenderla magari come si accende? oh sei tranquillo eh ok sono tranquillo io quindi schiaccia qua no orcodì non urlare che c'è il disco si padre nostro allora no minchia ah sì ma io non mi ricordo la strada ma non ho freno motore ho paura ahia la pozza d'acqua ho paura ok ok ho ansia perché sei mischiato non so come ripagarla facciamo enduro mi ammazza secondo te Leo Martino camadò che scelta di me è la macchina di prima però è figa eh a parte che non vede un cazzo perché c'è sta cosa di merda sembra un insetto davanti alla faccia oh ma che figata porca troia è oh ma glielo dà il gas eeeh senti che è scalata scalavete di te no veramente curva non sono brava a fare i tornanti vediamo se ci avaccio ah ma è molto più facile con il motard minchia stai lì le curvette sono da migliorare però l'obiettivo non schiantarci non c'è la pula su quindi andiamo fino a su facciamo uscire il giro mi guai di là ok questa è lo squarranino della Marti 4.50 è in duro quindi dai è abituata bene mi piace mica questo casco sta gigante Leo di merda non poteva avere la testa più piccola ma non ci viene un cazzo Leo pulisci sta cazzo di mascherina del cazzo mi piace come si spegne? ah ok giudizia caldo ma ero senza tarda giudizia caldo appena lascio il gas mi piace un po' frena però vero? non ha freno motore però è vero ne ha poco andando in freno motore arrivo in curva questa non ha freno motore perché era antiso il telamento esatto non te l'ho detto potevi buttare giù le marce senza usar la frizione andiamo al rave che tombocchio infatti si si gara oh hai imparato un po' a impennare ancora o no? no adesso ci provo ancora a poda guarda come si fa male dopo glielo dici te glielo dico io che c'è la telecamera dicono che hai già preso la multa si hai preso la multa questo ci pull up alla moto oh un po' di ficca qua se devi ribaltarti ribaltati qua così ti riprendo no no cioè questo devo facerlo a farti senza il mio coltivo mi ribalto una nata di gas in seconda fino e la moto finisce no ti prego fallo no lui è bravo serio è gratta le mani grazie Marty per averci dato questo content qua da Stresa piena di vecchie e tutto ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale mi raccomando e nulla bella raga è doc iscriviti al canale iscriviti al canale